Buonasera, allora, vediamo i libri sulla teoria di Elliot di Frost and Percher. Sono praticamente due autori che hanno scritto i libri più interessanti e più importanti e che hanno riportato i dettagli della teoria di Elliot avanti nel tempo. Purtroppo non è stato fatto lo stesso lavoro per altri studiosi, per esempio con Andrews. Purtroppo non è stato fatto questo lavoro di riportare avanti la teoria e quindi le informazioni sono piuttosto difficili da reperire. Comunque, con la teoria di Elliot abbiamo a disposizione questi libri. In italiano c'è la teoria delle onde di Elliot. Vediamo questo qua, di Trading Library. La teoria delle onde di Elliot, in italiano 35 euro, ne vale la pena chiaramente. E poi in inglese abbiamo praticamente lo stesso, soltanto nella versione inglese, ok? Io ce l'ho entrambi. E poi abbiamo, come libri proprio scritti da Elliot, questi due. Il primo, The Wave Principle, praticamente è stato scritto da una persona, insomma, che era vicino a Elliot, lo ha spinto a scrivere questo primo libricino, ok? Perché credeva nella teoria. Successivamente Elliot poi ha scritto un libro più completo che si chiama Nature Love, dove praticamente all'interno spiega in modo più specifico tutto quello che riguarda la teoria. Poi c'è un altro libro bellissimo anche, che però non c'entra con questi autori, no? Quest'altro, o anche questo, una guida di Bloomberg sulle teorie di Elliot, è molto interessante. E ci sta poi, vediamo se lo trovo qui, giusto per completare l'argomento di Elliot, si chiama Elliot Market Letters, eccolo qua, Elliot Market Letters. Ecco, io questo libricino ce l'ho, eccolo qua, ci sta ancora. Forse si trova, no, 82 dollari, 82 euro. Bene, ecco, questo qui l'ho acquistato nel 2014, ci riesce anche scritto, ed è un libricino praticamente interessantissimo, perché sono state raccolte, ecco, proprio da, 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 a cura di Pratchett, l'autore appunto dei libri che vi dicevo, lui ha raccolto praticamente quello che erano le Market Letters di, di Elliot, cioè delle newsletter che lui inviava, ok, ai propri iscritti, a chi lo seguiva, insomma, no? ed è molto interessante vedere quindi come lui etichettava le onde, come etichettava un contesto intero, e quindi i vari approcci che utilizzava. E quindi quello è un modo per vedere come Elliot proprio lavorava con questa teoria, ok? ed è un libricino, diciamo, se vogliamo, raro, perché già lo vedo a 82 euro, e non so quanto l'ho pagato, insomma, mi sembra che costi di più, e lo comprai, mi dà fortuna di acquistarlo nuovo, e c'è praticamente nel libricino qui, è tutto in inglese, così se parliamo in inglese, perché in italiano poi determinati argomenti, insomma, non sono proprio trattati. Ecco, lettere interpretative e forecast letters, e c'è quindi la parte didattica, quindi delle analisi che lui faceva a scopo didattico, ok, poi le lettere interpretative, quindi i bollettini educativi li chiamava, e poi le lettere interpretative per interpretare il mercato. E c'è tutto quanto, io per esempio qui ho la lettera interpretativa numero 5, del 10 novembre del 38, pensate un po', rispiega tutto quello che potete spiegare, insomma, che parla di fare delle analisi sul Dow Jones, ok? Insomma, è bellissimo vedere poi come proprio Elliot faceva l'analisi con le onde di Elliot, quindi chi vuole approfondire l'argomento, certamente questo libricino qui vi tornerà utile, insomma, ecco. Bene, per iniziare invece lo studio delle onde di Elliot, io, soprattutto chi ha difficoltà con l'inglese, abbiamo questo libro qui, questo qui, questa è la versione in inglese, e questa è la versione in italiano che trovate su Trading Library, ok? 35 euro e imparate, iniziate a vedere come funzionano le onde di Elliot. Le onde di Elliot a che servono? Le onde di Elliot servono per capire la struttura delle tendenze, è una teoria formidabile sia per l'approccio operativo, sia per l'approccio strategico, perché consente di, è un eccezionale strumento previsionale. Vi leggo alcune parti della prefazione, che sono interessanti. Allora, centinaia di teorie sono state avanzate circa le fasi di crescita e il deglino degli affari, i cosiddetti business cycle, variazioni nella disponibilità di moneta, sbilanciamenti, eccetera, eccetera. Charles Doe, uno dei maggiori studiosi d'America, dei movimenti del mercato, notò una certa ripetizione nei continui cambiamenti del mercato. Al di fuori di questa apparente confusione Doe, Charles Doe osservò che questo non era come un palloncino che rimbalzava casualmente nel vento, ma si muoveva attraverso una sequenza ordinata. Quindi già Charles Doe praticamente individuò una base di quella che era la teoria di Elliot, che poi è diventata la teoria di Elliot, e ha cominciato a tracciare, come dice anche l'autore, a setore grosse la teoria. Poi è arrivato Elliot successivamente, che ha ripreso praticamente il lavoro di Charles Doe, lo ha elaborato, e come dice se lo stesso autore è entrato poi molto nello specifico. e infatti qui dice Charles Doe dipinse con le setore grosse del pennello, mentre Elliot scese nei dettagli con maggiore precisione. Quindi Elliot prese quella che era la teoria di Charles Doe e l'ha praticamente approfondita, gli ha dato maggiore precisione e ha formulato quella che era la propria teoria. E si vede che effettivamente, come spiega Elliot, il mercato si muove in un certo modo, rispetta determinate dinamiche. Elliot scoprì che gli stessi fenomeni di ripetizione, così eloquentamente espressi dal predicatore Ecclesiaste, corrispondevano a quelli notati nei paragrafi iniziali della sua introduzione. Chi parlava? Di chi parlava? Vediamo un po'. Ah, di Pigot. Va bene. Vediamo adesso a approfondire questo. Vediamo un po' un'altra parte interessante. è Charles Collins che praticamente parla e parla di questo rapporto che aveva con Elliot, parla che lo spinge praticamente a scrivere questo libricino The Wave Principle, e poi successivamente, è stato un po' spinto Elliot a fare perché probabilmente arriva le sue remore, da quello che si legge le sue insicurezze, da quello che si legge aveva sofferto anche di problematiche di salute e in questo suo ritiro forzato praticamente ha migliorato e approfondito quella che era la teoria. è successivamente scritto poi un libro più completo che è Nature Love, leggere la natura. Questi due autori, poi Frost e Pressure, praticamente hanno ripreso tutto questo lavoro e hanno scritto degli ottimi libri che servono appunto per comprendere il funzionamento della teoria di Elliot. Il primo capitolo parla del concetto generale, quindi come funziona la teoria. I primi due capitoli parlano di come funziona la teoria. La teoria delle onde di Elliot parte 1, parte 2 Elliot applicato. Ok, quindi capitolo 1, il concetto generale, linea guida sulle formazioni delle onde e poi il capitolo 8, i cenni storici che sono comunque importanti per capire lui come è arrivato a determinate conclusioni, le difficoltà che ha incontrato. Parte 2 Elliot applicato, quindi una serie di elaborazioni che sono state fatte poi dopo. Ok? La teoria delle onde di Elliot, quindi serve per interpretare l'anamento delle tendenze, partendo praticamente da quelli che sono i cicli, quindi ogni ciclo sviluppa una tendenza. Una tendenza, come spiega Elliot, ha una struttura completa a 8 onde. 5 onde che determinano la fase propulsiva e 3 onde che determinano la fase correttiva. Pagina 22, 20, 21, 22, 23 parla di tutto questo e poi parla di una serie di regole che servono per filtrare. vediamo qualche esempio sulla lavagna. Vediamo qualche esempio sulla lavagna. Allora, una tendenza, una struttura, ok? Un trend si struttura in questo modo, ok? E questa è la fase praticamente propulsiva. Se voi andate a studiare il libro di Elliot, vedete proprio la base, come si struttura la tendenza, dove sono i numerini, qua? 1, 2, 3, 4, e 5. Questa è la fase propulsiva, ok? Poi c'è la fase correttiva. 1, 2, e 3. Questo indica praticamente la fine di una tendenza e riparte poi quella che è una fase propulsiva. Se voi andate a vedere, scusate, purtroppo sono un po', non sto informissima. Se voi andate a vedere come si struttura un grafico, purtroppo mi si sono chiusi i grafici proprio mentre parlavo. Comunque, se voi andate a vedere come si struttura una tendenza realmente, vedete che poi queste regole sono rispettate. Ci sono poi una serie di eccezioni, perché quello che ha studiato Elliot non sono nient'altro che i comportamenti abituali. Ogni comportamento indica praticamente una fase di azione, lo spiega anche nel libro, è chiaramente una conseguenza fase di reazione. Quindi, una struttura di questo tipo che ha questo tipo di comportamento tende a reagire in un certo modo. A seconda se, e questo l'ho imparato, insomma, studiando la teoria, perché ci sono una serie di variabili, a seconda del comportamento della prima e dell'ultima onda, è possibile determinare poi la fine, quindi l'inizio, la fine della tendenza, quindi l'inizio della fase correttiva. Oppure in base al comportamento della prima onda è possibile valutare il comportamento della seconda e poi della terza. Ok? In base al comportamento della quinta onda è possibile anticipare un'inversione di tendenza o semplicemente una fase correttiva. E sono tante, tante informazioni che Elliot ha spiegato e che sono riportate in questo libro che servono per interpretare gli andamenti di mercato. Si parte da quelle che sono le tendenze primarie, che sono le tendenze più importanti. Io leggo la tendenza primaria all'individuo attraverso il time frame mensile. La tendenza primaria, a seconda di come si struttura, determina una prospettiva di lungo termine. Oppure indica che ci troviamo in una fase correttiva più grande, quindi non bisogna avere obiettivi troppo ambiziosi perché la correzione può terminare e poi prima di ripartire con la fase propulsiva. Quindi si riescono a capire tante, tante cose sulla struttura delle tendenze. Che altro? Quindi ci sono tante configurazioni che possono essere poi miste e nel libro sono spiegate, quindi ogni comportamento indica poi una specifica fase di azione. Sono degli schemi di prezzo, ok? E se si strutturano in un certo modo possono anticipare la continuazione della tendenza, possono anticipare una fase correttiva breve, possono anticipare un'inversione di tendenza, ok? In base a come si comporta le prime due onde possiamo avere un margine di prevedibilità sulla terza onda. In base a come si comporta con le prime quattro possiamo avere un margine di prevedibilità sulla quinta onda. in base a come si comporta tutto il trend possiamo avere un margine di prevedibilità sull'inversione, sulla fase correttiva e anche sulla potenziale continuazione dopo la fase correttiva. Sono veramente un mare di informazioni. Infatti nel libro volevo leggere di questa parte ecco le formazioni che egli riconobbe sono ripetitive nella forma ma non necessariamente nel tempo e in ampiezza. Egli isolò 13 di queste formazioni o onde che recorrono nei dati dei prezzi di mercato e gli quindi descrisse come si legano insieme per formare aggregazioni maggiori e a loro volta come si legano per formare la stessa formazione nel successivo livello più grande e così via producendo una progressione strutturata. Questo che significa? Significa che io se ho disegnato questo qui e questo qui per esempio al time frame settimanale io potrei avere sul time frame mensile una roba del genere. Ok? E quindi qui praticamente ho 1 e 2 Ok? So che quando praticamente so quindi che in base a come si è comportato tutta questa come si è comportata tutta questa struttura posso valutare dove praticamente potrà terminare perché se termina la trend di questo seguimento sulla quinta onda sarà facile anticipare quello che è la correzione e poi la ripresa perché qui sto seguendo una progressione strutturata. C'è stata una prima o una seconda onda ci sarà certamente una terza una quarta e una quinta poi la quinta potrà essere ampia potrà essere stretta in base al comportamento di ogni onda poi ho sfrutto un margine di prevedibilità insomma adesso quindi da spiegare tutta la teoria è chiaramente impossibile perché richiede il libro richiede un certo lavoro da fare però sappiate che è una teoria interessantissima e vi consiglio di approfondirla ok che volevo dire prima mi sono dimenticato ho detto che voglio dire questa cosa e adesso mi sfugge il dettaglio che volevo aggiungere e va bene mi sfugge adesso comunque è certamente uno strumento sia previsionale che operativo che volevo dire no mi interessava la cosa che avevo messo da parte e caspita non mi ricordo vabbè non mi importa magari settimana prossima me lo segno se me lo ricordo e ve lo dico settimana prossima comunque certamente io uso sempre per la teoria di Elliot sia per uno scopo previsionale sia per uno scopo operativo ecco questo è il discorso che per costruire poi un'operatività ok si parte da una base una base di che tipo la base che ci serve per costruire un'operatività quindi una strategia è praticamente conoscere una dinamica ripetitiva nel mercato allora noi se prendiamo la dinamica ripetitiva la isoliamo e la rendiamo riconoscibile sulla base di quella di quel di quel di quel contesto isolato e ripetitivo quindi identificabile sulla base di quel contesto identificabile che si ripete e reagisce in un certo modo io posso poi strutturare e costruire una metodologia di trading per sfruttare quelle variazioni di mercato conoscendo quindi il comportamento di quella fase di mercato che si è sempre verificata e continua a verificarsi quindi la teoria di Elliot come anche tutte le altre teorie Andrews e tutto quello che ci può venire se una teoria ci indica una dinamica di mercato riconoscibile e ripetitiva ecco operare su quella dinamica di mercato non è automatico bisogna poi studiare un approccio ok oppure approcci per sfruttare quel tipo di dinamica perché poi chiaramente non si tratta di dinamiche che funzionano sempre allo stesso modo ci sono una serie di variabili allora bisogna gestire tutto questo ok quindi quando si parla di teoria di Elliot si parla di dinamiche ripetitive che poi vanno studiate ok integrate poi nel proprio trading e vanno studiati degli approcci operativi questa volta per sfruttare queste dinamiche ma non è un processo automatico cioè non è che io vedo ormai come funziona la teoria opero no perché sennò questa cosa poi non funziona ok e come sicuramente sarà capitato a molti di capire e cominciare a vedere che qualcosa in effetti corrisponde a quello che Elliot dice ma poi c'è difficoltà nel rendere come dire nel sfruttare questa cosa per un profitto il problema è che per passare dal riconoscimento di una fase di questo tipo al profitto c'è poi tutto un lavoro per costruire una metodologia ok e questo lavoro magari non è semplicissimo ma non è neanche impossibile richiede soltanto un po' di studio e un po' di pratica sicuramente però il primo passo è imparare a riconoscere il mercato imparare a leggere il mercato una volta che avete imparato a leggere il mercato come le tendenze si strutturano quali sono le fasi migliori le fasi più interessanti come il mercato reagisce quali sono i margini per costruire un'operatività quindi da lì si parte per costruire qualcosa che è in grado poi di produrre un risultato ok ma non c'è un filo diretto insomma conoscere il mercato ok e riconoscere queste dinamiche e poi la metodologia si costruisce questa cosa ma non è una cosa automatica non è che io vedo come funziona il mercato ok ormai lavoro e questa cosa è facile allineare no ecco c'è bisogno di strutturare tutta questa cosa per far funzionare poi per sfruttare queste cose ai fini di un profitto insomma ok ragazzi sono senza voce spero che sia utile sempre questa sessioncina poi mandiamo la registrazione lunedì penso in settimana o anche in settimana vediamo un po' a tutti gli utenti insomma così possono sentire la registrazione ragazzi buona serata e ci vediamo settimana prossima a presto a presto